Musica Manovra 2025 caccia alle risorse per finanziare la legge di bilancio. Il governo ha riaperto i termini di adesione al concordato preventivo biennale, fissando la nuova deadline al 12 dicembre, ben oltre il limite del 31 ottobre che era stato originariamente stabilito dal legislatore. Le oltre 500.000 adesioni delle partite IVA avrebbero fruttato ad oggi un gettito pari a 1,3 miliardi di euro. Il concordato BIS consente per due anni di pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, coerente con i parametri contenuti nelle banche dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria e i redditi dichiarati dal contribuente. I lavoratori autonomi e le partite IVA che aderiranno al concordato potranno così congelare tasse e controlli per i prossimi due anni, stringendo un patto con il fisco e pagando una somma pattuita. Con le risorse raccolte, il governo punta ad abbassare, presumibilmente dal 35 al 33%, l'aliquota del secondo scaglione IRPEF. La manovra al momento ha reso strutturale la riduzione da 4 a 3 aliquote. Con il gettito del concordato se ne potrebbero modificare i confini. L'intenzione del governo è quella di intervenire anche sullo scaglione successivo, come ha ribadito lunedì 11 novembre la Premier Meloni ai sindacati nel corso del lungo confronto sulla manovra. La CISL al tavolo con il segretario generale Luigi Sbarra e la segretaria generale aggiunta Daniela Fumarola ha ribadito il giudizio sulla manovra, con molte proposte del sindacato recepite nel DDL, che pure è migliorabile, ha dichiarato il leader CISL, sottolineando che la strada giusta è il confronto, l'esercizio di responsabilità che deriva dalla delega che ci danno i nostri associati. Sbarra, che ha parlato di incontro positivo, ha elencato le cose da modificare, incrementare le pensioni minime, fermare la riduzione strutturale degli organici nella scuola e il blocco parziale del turnover nell'EPA, l'università e la ricerca. Vanno inoltre cancellate le riduzioni del fondo per l'automotive e recuperate risorse per la non autosufficienza. Per il mezzogiorno, poi, ha sottolineato il sindacalista, bisogna recuperare le risorse perdute con lo stop imposto dall'Europa a decontribuzione sud, rafforzando le misure meridionaliste introdotte in manovra. La premia e i ministri hanno dato piena disponibilità a definire incontri su questi temi nei diversi di Casteri, con l'obiettivo di trovare soluzioni dentro e fuori il perimetro della legge di bilancio. Terziario distribuzione e servizi, il 31 ottobre, le organizzazioni sindacali di categoria Filcams, Fisaskat e Wiltux e l'Associazione Imprenditoriale Confcommercio e Imprese per l'Italia hanno siglato l'accordo integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per la regolamentazione delle nuove figure professionali e dei relativi percorsi formativi necessari per le assunzioni con il contratto di apprendistato professionalizzante. L'intesa rappresenta il culmine di un percorso negoziale avviato con il rinnovo del CCNL TDS sottoscritto il 22 marzo 2024, a seguito del quale le parti hanno successivamente ridefinito il sistema di classificazione del personale, introducendo nuovi profili professionali mirati a rispondere alle esigenze di innovazione e competitività del settore. Gli aggiornamenti sono stati realizzati attraverso una serie di accordi integrativi che hanno progressivamente stabilito le tempistiche di attuazione e i dettagli formativi delle nuove figure professionali previste dal contratto. A partire dal 1 novembre 2024, le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante saranno regolate sulla base dei nuovi profili professionali e formativi delineati dagli articoli contrattuali. L'introduzione di questi profili consentirà alle aziende di impiegare apprendisti che grazie a un percorso formativo strutturato e aggiornato potranno sviluppare competenze adeguate alle nuove necessità del mercato del lavoro nel settore. Soddisfazione in casa Fisaskat CISL. Questo accordo, ha dichiarato il segretario nazionale Diego Lorenzi, si inserisce in un quadro di innovazione delle competenze e di riconoscimento dei percorsi di apprendistato con l'obiettivo di rendere il macrosettore terziario sempre più competitivo e in grado di valorizzare le nuove professionalità. Confermiamo l'impegno a monitorare e supportare l'attuazione dei percorsi formativi affinché il nuovo sistema contribuisca effettivamente alla crescita del settore e alla valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori, ha concluso il sindacalista. Terzo settore, sociosanitario assistenziale educativo, passi avanti nella trattativa di rinnovo del contratto nazionale UNEBA, scaduto da quasi cinque anni e atteso dai circa 135 mila addetti alle dipendenze delle strutture aderenti all'associazione datoriale o che comunque applicano il contratto. Le distanze si sono accorciate rispetto alla modifica dell'articolato divise indumenti di servizio, con una intesa di massima sul riconoscimento di 15 minuti per la vestizione e svestizione, come richiesto con determinazione dalle organizzazioni sindacali, una novità che rappresenta un passo significativo per garantire una giusta valorizzazione del tempo impiegato dai lavoratori nelle attività preparatorie all'erogazione del servizio. Sul fronte della tutela della maternità e paternità, l'articolato contrattuale è stato oggetto di un approfondimento che ha portato ad un avvicinamento delle parti che hanno concordato l'integrazione fino al 100% della retribuzione durante tutto il periodo di congedo obbligatorio della maternità. Questa misura mira a valorizzare e sostenere concretamente le lavoratrici nel delicato periodo della maternità, andando oltre le disposizioni di legge per garantire maggior sicurezza e serenità economica. La discussione si è inoltre estesa al trattamento economico progressivo, un tema che resta tuttavia ancora aperto per via delle distanze significative tra le parti con la richiesta di eliminazione dell'articolato ribadita dai sindacati. I prossimi incontri sono stati fissati per il 25 novembre in sessione plenaria, seguiti da due nuove giornate di trattativa, il 4 e 5 dicembre 2024. Cooperative sociali, definite le nuove linee guida utili alla costruzione dei piani di assistenza sanitaria integrativa in favore delle lavoratrici e dei lavoratori per cui trova applicazione il contratto nazionale di settore, le parti sottoscrittrici, il recente rinnovo del contratto, i sindacati di categoria, FPCGL, CISLFP, FISASCAT CISL, Will FPL, Wiltux e le associazioni datoriali, Conf Cooperative, Feder Solidarietà, Lega Cop Sociali e AGCI, Imprese Sociali, dando seguito alle previsioni contrattuali. hanno concordato la modifica delle linee guida di intervento al fine di rendere omogene le prestazioni tra i vari gestori presenti sul territorio nazionale. Le parti hanno inoltre convenuto di effettuare incontri periodici con cadenza annuale per monitorare la situazione ed avere una fotografia sempre aggiornata, consapevoli delle congiunturali e tempestive trasformazioni del contesto e delle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori. Il recente rinnovo contrattuale ha infatti ampliato su questi temi i diritti di informazione. In ciascuna realtà aziendale potranno essere richieste informazioni dettagliate rispetto al piano di assistenza sanitaria integrativa e dove si dovessero palesare delle violazioni rispetto alle intese raggiunte, azionare tutte le iniziative volte a sostenere la corretta applicazione del contratto. Dal 1 gennaio 2025, pertanto, gli attuali piani di assistenza sanitaria integrativa dovranno essere implementati nelle aree ricoveri, alta diagnostica, visite specialistiche, ticket e pronto soccorso, maternità e gravidanza, prestazioni sociosanitarie assistenziali, compresa l'invalidità temporanea, prestazioni di assistenza odontoiatrica e contributo lenti da vista. Soddisfazione in casa Fisascata CISL con le nuove linee guida, dichiarato la segretaria nazionale della Federazione CISLina, Aurora Blanca, abbiamo definito uno standard di prestazioni minime e omogenee in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, all'interno della pluralità dei piani esistenti. Abbiamo lavorato al fine di migliorare ciò che è attualmente disponibile, istituendo una prestazione ex novo. Tanto c'è ancora da fare congiuntamente, ha concluso la sindacalista, per il pieno riconoscimento di quanto sancito nel contratto nazionale per favorire le prestazioni a tutti i lavoratori, anche al fine di debellare la pratica del massimo ribasso, a discapito della dignità di chi opera nel comparto. Rodhaus S.p.a. ha siglato il primo contratto integrativo aziendale per gli oltre 3.600 dipendenti della società attiva nella ristorazione commerciale, con oltre 135 locali in tutta Italia e marchi noti come Calavera, Billy Tacos e Chicken House. L'accordo firmato dai sindacati di categoria, Filcams CGL, Fisascata Cisle Wiltux e la direzione aziendale, entrerà in vigore il 1 gennaio 2025 e sarà valido fino al 31 dicembre 2028. L'intesa introduce un sistema strutturato di relazioni sindacali, estendendo i diritti previsti dallo Statuto dei Lavoratori anche ai locali con meno di 15 dipendenti. Saranno garantite inoltre fino a 10 ore, retribuite all'anno per assemblee sindacali, in presenza o da remoto, rafforzando la rappresentanza dei lavoratori. Sul fronte della salute e sicurezza è prevista una campagna di assemblee per eleggere i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in ogni locale e l'istituzione di una commissione paritetica per la gestione delle tematiche condivise. Per migliorare la conciliazione vita-lavoro vengono introdotti turni pianificati su tre settimane, con due giorni di riposo consecutivi, ogni quattro sabati e domeniche lavorati. L'intervento anche sul consolidamento e sull'estensione degli orari di lavoro part-time sarà concordato un sistema sperimentale di automaticità, individuando alcuni locali pilota, che sulla base delle esigenze personali e dei picchi di attività stagionale preveda l'aumento temporaneo e definitivo delle ore supplementari. Sostegno alla genitorialità con l'estensione dei periodi di congedo parentale per maternità, con l'integrazione di un ulteriore 30% della retribuzione e la possibilità di richiedere la momentanea trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale sino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, aumentato a 14 anni il limite di età per usufruire dei permessi per malattia dei figli. Tra le novità una pausa retribuita di 10 minuti per vestizione e svestizione, il diritto ad un pasto completo per tutti i lavoratori e condizioni migliorative per l'anticipazione del TFR. Grande attenzione riservata alla formazione professionale con un sistema di certificazione delle competenze e alle tutele in caso di malattie gravi con la possibilità di richiedere aspettative non retribuite senza conteggiare le assenze per infortunio. Viene introdotto un nuovo permesso retribuito per sostenere esami universitari. L'accordo promuove anche la solidarietà tra lavoratori con la Banca Ore Solidali a cui l'azienda contribuirà con un'ora aggiuntiva per ogni ora donata. Inoltre i dipendenti potranno trasformare il contratto part-time in caso di particolare esigenze tra le quali i casi riconosciuti di vittime di violenza di genere. Sulle pari opportunità è prevista la designazione di una consigliera di parità e percorsi formativi per sensibilizzare sul tema. Entro il 2025, infine, sarà definito un sistema di premio e risultato con decorrenza dal 2026. Soddisfazione in casa sindacale. Il primo contratto integrativo Rodaus, hanno dichiarato Filcams, Fisaskat e Wiltux, costituisce un passo avanti verso un modello di relazioni sindacali più moderno e inclusivo, in grado di rispondere alle esigenze di un settore dinamico, come quello della ristorazione commerciale. Ora, concludono, sarà fondamentale dare piena attuazione a quanto concordato, continuando a lavorare con determinazione per migliorare la qualità del lavoro e della vita dei dipendenti. Arval Service Lease Italia ha raggiunto l'accordo sul nuovo contratto integrativo aziendale applicato agli oltre 1.200 dipendenti della società del gruppo BNP Paribas, leader nel settore del noleggio a lungo termine nella gestione di flotte aziendali. L'intesa, sottoscritta da Fisaskat, Cisle, Filcams, CGL e dalla direzione societaria, sarà applicata a partire dal 1 dicembre 2024 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2027. Il nuovo Cia introduce importanti novità, a partire da un sistema di relazioni sindacali più strutturato su due livelli, nazionale e territoriale. Arval metterà a disposizione la bacheca elettronica e i locali per lo svolgimento di assemblee sindacali e le riunioni di coordinamento nazionale, con la possibilità di utilizzare la piattaforma Webex per le riunioni telematiche, incrementate le ore retribuite di assemblea previste dal contratto con ulteriori otto ore annue. Grande attenzione è stata riservata al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con un rafforzamento delle misure preventive e formative e l'istituzione di un centro di ascolto per affrontare tematiche legate a stress e burnout, tra le novità anche o raggiuntive retribuite per la sicurezza e i rimborsi, per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Sul fronte dell'organizzazione del lavoro, l'accordo introduce una riduzione dell'orario a parità di retribuzione nei mesi estivi, maggiore flessibilità in ingresso e la possibilità di lavorare fino a 10 giorni al mese smart working per favorire la conciliazione vita-lavoro. Migliorate anche le tutele per la genitorialità, con il 100% della retribuzione per i congedi parentali facoltativi, contributi per i figli e permessi riconosciuti a vario titolo. Importanti passi avanti anche sul welfare, il nuovo integrativo consolida l'assistenza sanitaria integrativa e rafforza la previdenza complementare, con l'aumento della contribuzione aziendale al fondo fonte al 2%. Dal 2025 inoltre è prevista una copertura assicurativa aggiuntiva per infortuni professionali ed extra-professionali. Aumentano gli importi del ticket pasto con scalettature fino a 8 euro, migliora il trattamento di malattia, così come sono state implementate le linee guida della Banca Ore Solidali. Rivisitato il sistema premiante, il premio di risultato, legato a nuovi parametri di produttività e qualità, avrà un valore massimo annuale che corrisponde al 100% della mensilità minima contrattuale per ciascun livello al 31 dicembre, con la possibilità per i lavoratori di scegliere sull'erogazione in quota in denaro o in welfare attraverso una piattaforma dedicata. Prevista anche un'indennità, una tantum, fino a 2.400 euro per sanare le dissonanze con il precedente CIA. Nelle previsioni contrattuali anche il consolidamento e la stabilizzazione dell'orario di lavoro a tempo parziale. L'accordo pone l'accento sulle tutele di genere, introducendo congedi retribuiti aggiuntivi per le vittime di violenza e permessi per attività di volontariato, confermando l'impegno verso una buona e stabile occupazione, promuovendo il contratto a tempo indeterminato e vigilando sul rispetto della contrattazione negli appalti. Infine, l'intesa apre la strada ad una maggiore partecipazione dei lavoratori a progetti europei di dialogo sociale, rafforzando il ruolo del Comitato Aziendale Europeo. Soddisfazione in casa Fisaskat-Cisle, un passo avanti per diritti e nuove tutele con il riconoscimento delle professionalità, misure per la conciliazione vita-lavoro e per il benessere lavorativo, ha dichiarato Salvo Caro Fratello, sottolineando il rafforzamento delle relazioni sindacali, al passo con la crescita e lo sviluppo d'impresa e il miglioramento di quella che era già un'intesa innovativa e dai grandi risvolti sociali, strumento di risposta alla necessità di regolamentazione delle nuove prestazioni lavorative, rispetto anche alla flessibilità organizzativa, confermando al contempo la partecipazione dei lavoratori ai risultati aziendali. In Veneto, a Venezia, verso la chiusura nel 2025, il fondaco dei tedeschi, a rischio occupazionale, tutti 226 dipendenti del noto centro commerciale di lusso, situato in un palazzo storico del 1200, accanto al Ponteri Alto, è quanto comunicato alle organizzazioni sindacali di categoria territoriale, Filcams, Fisaskat e Wiltux Venezia, dalla società DFS Italia, filiale nostrana della DFS, distributore internazionale di prodotti di lusso, con sede a Hong Kong, controllata del grande gruppo del lusso LVMH. Alla base della chiusura, i bilanci costantemente deficitari e la difficoltà a mantenere il modello di business del lusso, con la consistente riduzione della clientela di riferimento proveniente dall'Asia. I sindacati hanno stigmatizzato l'informativa aziendale, avevamo notizie di uno stato di sofferenza, ma certamente non potevamo aspettarci una decisione così drastica da parte di DFS. Hanno dichiarato congiuntamente i segretari generali di Filcams, Fisaskat e Wiltux Venezia, Boato, Pegoraro e Marchiori. Sono state convocate le RSA per la comunicazione dell'avvio della procedura di mobilità, hanno spiegato le tre sigle, sottolineando che emerge che dal 2020, solo a Venezia, DFS abbia accumulato più di 100 milioni di euro di perdite. Il core business del Fondaco erano i travel retail, i viaggi organizzati per fare shopping di lusso, soprattutto provenienti dal mercato asiatico. Negli anni scorsi, spiegano i sindacati, le perdite di Venezia erano state in parte colmate con i profitti accumulati da DFS in giro per il mondo, ma il mercato del lusso sta vivendo una crisi epocale e la chiusura di Venezia è solo la prima di un più ampio processo di ristrutturazione di DFS che chiuderà anche altre sedi. A preoccupare i sindacati anche la tempistica della restituzione dell'immobile alla proprietà edizione holding prevista a settembre 2025. È presumibile quindi che i negozi chiuderanno non più tardi della prossima primavera. Sulla vertenza si è espresso anche il Comune di Venezia che ha intanto convocato i sindacati per il 18 novembre per concordare eventuali iniziative comuni per scongiurare le ripercussioni occupazionali. Il TG Lab è consultabile sui canali social Facebook, YouTube e Twitter. Grazie per essere stati con noi e arrivederci alla prossima settimana. Investire nelle competenze è la chiave per il successo della tua azienda. Raccogli la sfida. Fondo forte, finanzia senza costi la formazione dei tuoi dipendenti. Aziende e lavoratori al centro. Il futuro è oggi. Fai la differenza. offenare la 있지za divided. La gioia Grazie a tutti